Ben ritrovati, secondo e ultimo appuntamento di giornata del nostro TG Targato, Goldbet News. Allora andiamo subito a vedere il primo argomento nella giornata... Ben ritrovati, prima edizione di giornata con il nostro TG Targato, Goldbet News. Allora andiamo subito a capire il primo argomento... Trattati a voi, a dopo! Grazie, la re... C'è lo spin di Star Casino Sport, andiamo a dedicarci ad un giocatore in particolare della formazione...